Mi rivolgo ai cittadini di Piortello che dopo quanto è successo alla nostra città sentono necessità di un cambiamento profondo, di una svolta nello stile della politica e nello stile di governo. C'è un movimento civico che non deve rispondere ai partiti ma solo ai cittadini. Ci presentiamo con un programma scritto insieme ai cittadini che contiene oltre 130 proposte concrete per la nostra città. La nostra città non ha bisogno di nuove grandi opere, ma di tanta buona manutenzione, del rispetto delle regole e di un sindaco che sappia ascoltare i cittadini. Il centro-sinistra si presenta a queste elezioni frammentato e litigioso. Solo il voto per noi può riaggregarlo al ballottaggio e farlo vincere. Molti quest'anno stanno pensando di votare 5 Stelle per protesta contro i partiti. Noi non siamo un partito, siamo un movimento civico e in più conosciamo molto bene la nostra città e abbiamo la necessaria esperienza amministrativa. Quindi se anche tu vuoi dare una svolta alla nostra città perché sia governata con competenza e con passione, il 25 di maggio vota lista per Piurtello oppure vivere Piurtello. Grazie.